Un saluto a tutti voi, miei cari amici dei social, del canale YouTube Fidio del Podico 65 Aquilas Coop, tutti gli amici di TikTok, X, Instagram, le pagine Facebook, la pagina ufficiale di Facebook Aquilas Coop. Di cosa andiamo a parlare oggi? Sicuramente siamo ancora sconcertati, basiti, non voglio essere l'ultimo arrivato che parla di calcio, purtroppo potrei anche farlo perché ci ho giocato per tanti anni a calcio e anche a buonissimi livelli. Voglio dire, ma non voglio dire la mia, voglio far parlare gli altri perché siamo tutti professori di calcio, siamo tutti esperti, eccetera. Una cosa che quando ho visto la partita a Svizzera Italia non sapevo se piangere o ridere, ecco questa è l'unica cosa. Comunque ha fatto sicuramente breccia e non lascia traccia, fra le tante, fra le tantissime, l'intervista che fa Fabrizio Corona e dice una sacrosanta verità. Cosa dice in sostanza? La nazionale come Ilaria Salis. Drogati, sfigati, adesso tutti a Ibiza con le bambole di plastica. È accolto nel segno, amici miei, accolto nel segno. Anche perché questo lo scrive sul suo profilo Instagram. E vediamo che cosa dice Fabrizio Corona, perché se la prende con la nazionale di calcio, con l'allenatore, e anche fa un passaggio sulla politica. E poi ci dà anche un suggerimento, un suggerimento che vi prego di sentire e vedere in questo video. Cosa dice Fabrizio Corona? Dice una nazionale di ragazzini, sfigati, senza coglioni, stupidi e viziati. Mancano completamente di carattere e determinazione. Presto li vedremo tranquilli, sereni, come se nulla fosse successo e niente ha lasciato al caso, a Ibiza, pieni di tatuaggi senza senso, finte famiglie già scoppiate da tempo, e bambole di plastica, gonfiate con i loro soldi di silicone. Non hanno avuto professionalità, continua Fabrizio Corona, e impegno. Vigliacchi, guardate cosa dice qui, la sua fantasia dove arriva? Se l'Italia fosse un paese serio, Equitalia dovrebbe pignorare i loro stipendi. Ci hanno fatto vergognare dinanzi al mondo. Non credo che Fabrizio Corona si intenda di calcio, vuol dire, non è che se ne feghi molto, però, dice, una sacrosanta verità, visto questa vergogna, senza fare battute, cambiamo allenatore, cambiamo il Presidente della Federazione Gravina, eccetera, pignorate gli stipendi. Trammi liquidità, anche perché non se li sono guadagnati, perché adesso prenderanno, mi sembra, 300 mila euro a testa per quanto riguarda la trasferta agli europei, io glieli sbatterei in testa, o 300 o 400 mila euro, io glieli sbatterei in testa, quindi solamente per la convocazione, glieli sbatterei in testa, e quindi andiamo avanti. Ma Fabrizio Corona se la prende anche con l'allenatore, Luciano Spalletti, un fottuto borioso, senza valori e principi, e onestà intellettuale. Corona affonda anche nella politica italiana. Guardate questo passaggio che fa, quello che voglio dire, amici miei, io non sono uno, un coroniano, uno che piace Corona, a me non è mai piaciuto, però posso dirvi che per certi aspetti, amici miei, rispetto agli altri, a molti altri, lui ci arriva sempre prima, lui ha l'arguzia di arrivare sempre prima, e il modo con cui le dice le cose che lui sbaglia, il modo di presentarci, di rappresentarsi, cioè dell'uomo condannato, del bello e cattivo, del bello e dannato, chiamatelo come volete, ma questo sbaglia. Ma non dimenticate, amici miei, che Fabrizio Corona è figlio di Vittorio Corona, quello che è uno dei padri del giornalismo in Italia, quello che ha inventato i reportage, è una scienza, io ho studiato su tanti libri di Vittorio Corona, quando ho fatto i corsi di giornalismo, eccetera, per la mia laurea, eccetera. Quindi voglio dirvi, era persona in gamba, anche se lui ha preso l'un per mille del padre, qualcosa, voglio dire, di sensato, c'ha nella mente, e lo dice. Guardate che dice adesso. Viva l'Italia! Mi spiace per quelli che ci credono, ma noi siamo il paese che elegge una pluripregiudicata, terrorista, drogata, che butta le bombe nelle carceri, come Ilaria Salis, per rappresentarci in Europa. Dice, una santa verità, amici miei, questa c'ha 20 denunce, 20 denunce, ma poi la vedi, dico, 1,40, vuol dire, sembra la Sara Tommasi, sembra la Sara Tommasi, quella è bipolare, ha fusa di testa, ha fatto film di porno, voglio dire, ha fatto dire di Dio, adesso sta a Sharma e Shake, ha trovato un marito, forse qualcuno l'ha raccolta, presente sempre nei Bunga Bunga, Silvio Berlusconi, era quella più attiva di tutte, era la racconta a rubi, era la più malata di tutte, quindi, bipolare può darsi sì, film di porno può darsi no, ma che fosse presente ai Bunga Bunga, e fosse la più attiva di tutte, questo vuol dire, è verità, è perché si è scritto nei processi e così via, quindi, mi sembra un po' la Sara Tommasi dei poveri, la Elaria Salis, anche se muo prende 47 mila euro al mese, quanto riguarda l'euro parlamento, grazie a voi italiani, che gli avete dato 176 mila preferenze, a una pluripregiudicata, pluripregiudicata, 20 denunce, 19-20 denunce, e 4 condanne passate in giudicato, quindi, la terrorista ha tutti gli effetti, dice, pluripregiudicata, terrorista, drogata, come Ilaria Salis, per rappresentarci in Europa, Ilaria Salis, come la nazionale di calcio, zero credibilità, quindi Fabrizio Corona dice, Ilaria Salis, come la nazionale di calcio, zero credibilità, per chiudere, fa un'altra, dice un'altra cosa, ma molto vera, perché dice cose vere, dice cose vere, dice, per chiudere, chi è il capo della delegazione, della nazionale di calcio, amici miei, e chi gioca nella nazionale, mi duele perché io sono della Juve, e quindi questo è un calcio della Juve, il capo delegazione della nazionale di calcio, è un certo Gianluigi Buffon, campione del mondo nel 2006, ed è un ludopatico, si è giocato un patrimonio, al poker, e abbiamo all'interno della nazionale, Niccolò Fagioli, che la Juve sta aiutando, da uscire dalla ludopatia, perché si è giocato, direi Dio, anche se ha 21 anni, ecco perché Gianluigi Buffon, non ha fatto una dichiarazione, dice Fabrizio Corona, alla fine della clamorosa sconfitta, e vergognosa sconfitta, contro la Svizzera, amici miei, prendiamo atto che anche Fabrizio Corona, parla di calcio, eccetera, ma, poi cosa ho fatto, sono andato a vedere, siccome parlava di bambole di plastica, parlava di situazioni di plastica, sono andato a vedere, chi sono le compagne, dei calciatori, questo lo fa soltanto, Figlio del Podio 65, Aguila Scoop, anche per essere, no, per dare chiari, a vedere, chi sono le compagne, delle calciatori, che ieri, ci hanno fatto vergognare, contro la Svizzera. Allora, Gianluigi Donnarumma, sportiere, migliore in campo, sempre, la compagna è Alessia Elefante, Matteo Darmian, è Francesca Cormanni, Bastoni, è Camilla Bresciani, Chiesa, è Lucia Bramani, Barella, è Federica Schevenin, Brian Cristante, giocava a centrocampo, è Selene Cato, Gianluca Scamacca, un fantasma in campo, la peggiore punta della storia della nazionale, io ho fatto l'appunto e lo posso dire, Flaminia Appolloni, El Sharawi, Ludovica Pagani, Niccolò Fagioli, Giulia Bernacci, Giovanni Di Lorenzo, la vergogna assoluta, amici miei, meno male che non lo compra la Juve, Allora, Clarisma Franchi, Gianluca Mancini, Elisa Bagliani, e poi Zaccagni, Zaccagni, quello che ci ha salvato contro la grazia, sapete che la compagna, è una, allora, è Chiara Nasti, basta andare a vedere Chiara Nasti, quindi vedete i follower, Instagram, eccetera, Mezzanuda, la maggior parte, il 90% di queste donne, di queste ragazze, non sono solamente delle bambole di plastica, io l'offesa è stata molto dura di corona, io dissento, però voglio dire, sono tutte attivissime sui social, se vai a vedere c'è scritto, o influencer, o attiva sui social, quindi se questi calciatori, devono essere sostenuti da donne, che pensano più all'immagine, che alla dignità della nazionale, amici miei, lascio a voi i commenti, se vi è piaciuto il video, un bel segui, per quanto riguarda i social, iscrivetevi al canale YouTube, Fidropodico Stante 5, Aguila Scoop, quindi il like, i commenti che le aspetto, amici miei, li voglio leggere, quindi la campanellina per la notifica, e come dico sempre, amici miei, più siamo, meglio è, più grande, è la cassa di risonanza, e poi amici miei, l'Italia non è solo quella, che abbiamo visto nel calcio, l'Italia è molto altra, non dimentichiamo che noi restiamo, e vogliamo essere sempre italiani, amici miei, vi voglio bene, alla prossima!